per rifare esami come tutti gli altri ma io ho paura ho paura hai capito? io li faccio? ma no aiuto aiuto non ci voglio andare ma non ci voglio andare mi prego non ci voglio andare anzo ma tutto il mondo è così ma da me ci sono tutte bruttane ma la lune noi siamo amiche? no? allora che problema ha questa bella ragazza adesso quant'è che stai andando dal dottor Gigio? sarà un mese ciao 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 ciao